ciao guarda che puma è un po irrequieto oggi sono tutti svegli ma la protezione è tutto il recinto che c'era scherzi cioè questa è una protezione poi c'è il recinto sta andando di là sta andando di là adesso andrà a rifugiarsi mi sa che iniziano a sentire il tempo il fresco che arriverà da domani vero è fede guarda lo struzzo ma andiamo a cercare andiamo a cercare noi coccodrilli saluta ciao